Le anticipazioni del segreto relative al mese di febbraio ci rivelano che Mattias Castagneda sarà costretto ad un matrimonio riparatore con Marcella, rinunciando a riappacificarsi con Beatriz, l'amore della sua vita. La figlia di Ernando però non accetterà di essere messa da parte, tanto da convincere Lucia a dargli qualche consiglio per riconquistare il Castagneda. Inoltre Beatriz continuerà a mettere zizzania tra i due novelli sposi, tanto che Marcella diventerà molto gelosa del giovane marito. I due decideranno ugualmente di vedersi per l'ultima volta nel luogo che aveva visto la nascita del loro amore. Qui si ritroveranno l'uno tra le braccia dell'altra, tanto da lasciarsi andare ad un lungo bacio d'amore. Beatriz dimostrerà di avere del buon senso, tanto da decidere di non vederlo più, se la passione non avesse la meglio. Infatti dirà a Mattias di avere l'intenzione di essere la sua amante, tanto che i due si incontreranno sempre più spesso a fare l'amore in un capanno isolato nel bosco, inventando numerose scuse ai familiari. Dagli ultimi spoiler si evince che Marcella un giorno troverà un disegno di Beatriz, e non sapendo che si tratta di un dono fatto a Mattias, convincerà il padre ad incorniciarlo per poi poterlo appendere sopra la culla del figlio che sta aspettando. Mattias a questo punto confesserà di averlo trovato sui tavoli della locanda dei suoi genitori che cominceranno ad annusare l'inganno. Intanto a Puente Vieco arriverà Belen Garrion, la figlia di Nestor, l'ex amante cubano di Camila. La bambina riconoscerà il disegno fatto da Beatriz, tanto che Emilia comincerà a nutrire dei dubbi su suo figlio. Infatti lo accuserà di aver intrapreso una relazione extraconiugale con la figliastra di Camila. Il Castagneda le mentirà dicendole di aver ricevuto il quadro come segno di addio, ma Emilia non crederà a tutto ciò e rovinerà in maniera volontaria il quadro, versandoci sopra del vino rosso. Tutti i rimproveri di Emilia però risulteranno vani, in quanto i due continueranno comunque a vedersi ne nascosto. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!